Scusate, sono molto arrabbiato, molto deluso, molto amareggiato. Provo inconcepibile subire due gol in sette minuti, uno uguale all'altro. Su calci di punizione da fermo, due colpi di testa sotto misura in area, gol di Ibanez 2 a 1 e di Abram 2 a 2 al 94esimo. Cioè in sette minuti, in sette minuti abbiamo subito due gol. Quando per tutta la partita avevamo una netta supremazia territoriale. Nel momento in cui la Roma ha spinto, il Milan è andato in difficoltà, proprio in difesa. Proprio in difesa. L'ennesima dimostrazione è che abbiamo dei problemi, soprattutto sulle palle alte. 18 gol subiti, 18 gol subiti, uno uguale all'altro, nell'area piccola, in area di rigore, quando ci difendiamo, ma andiamo su!